stampini masnata ultima giornata del girone 1 della final season cup per entrambe le squadre sono già qualificate ai quarti di finale in avanti stampini con questo tiro di pilas fuori di pochissimo quindi già pericoloso stampini ancora stampini pericoloso con questa apertura sulla sinistra il gol di rapina di poti è 1 a 0 1 a 0 stampini quindi in vantaggio stampini meritatamente risponde con questo tiro alto masnata quindi pericoloso anche maglia gialla arriva comunque il pareggio con questo gran gol di argiolas 1 a 1 masnata la riprende però va anche subito di nuovo in vantaggio masnata con questo tiro di bolognesi quindi 2 a 1 sorpasso per masnata in avanti con questo tiro respinto la reazione di stampini calcio d'angolo ancora per stampini che vuole trovare a tutti così il pareggio il tocco il tiro e c'è il pareggio arriva il pari di meloni 2 a 2 stampini calcio di punizione masnata trova immediatamente il 3 a 2 con il gol di argiolas la doppietta bellissima di punizione però non ci sta e arriva il pareggio il pareggio di roberto quindi stampini che riacciuffa di nuovo masnata e finisce così i primi 25 minuti regolamentari quindi vediamo come sarà il secondo tempo se sarà entusiasmante con come il primo tempo che ha visto sei ben sei gol in totale vediamo subito il tiro alla traversa vicino al gol stampini ancora stampini che vuole trovare il gol del sorpasso e arriva con corda il 4 a 3 per stampini ancora il tiro e va avvicino anche al 5 a 3 al si al 5 a 3 stampini si fa vedere masnata in cerca del del pareggio il tocco sotto e arriva il pari e arriva il pari saiu 4 pari masnata calcio d'angolo per stampini che la salva sulla lina la difesa di masnata e finisce così stampini e masnata finisce 4 pari grazie